Siteco, il piano di riequilibrio finanziario è stato approvato in Consiglio Comunale, ora inizia una fase veramente importante per il futuro della città di Chiedi. Indiscutibilmente, questo programma di riequilibrio finanziario è stato il nostro cruccio dall'inizio del mio mandato. Abbiamo lavorato mesi con enormi difficoltà, la principale della quale è la mancata digitalizzazione dei nostri uffici, dei nostri servizi, per cui abbiamo dovuto scartabellare per tantissimi giorni e per tantissime settimane carte e quindi abbiamo messo del tempo. Questo piano per noi ci darà sicuramente la possibilità di ripartire. Chiederemo ovviamente dei piccoli sacrifici ai nostri cittadini, perfettamente consapevoli che questi sacrifici erano indispensabili, necessari, perché già da quando facevo campagna elettorale utilizzavo la metafora del vaso di Pandora, ovvero sia di una situazione finanziaria certamente non florida, che avremmo trovato. Non ci saranno tagli di nessun genere, voglio dare note di ottimismo sotto questo punto di vista e tutte le manovre, dalle tariffe ad altre cose, sono perfettamente non solo comprensibili, ma anche facilmente gestibili sia dall'amministrazione che dalla città.